Uno sforzo operativo che ha portato risultati senza precedenti. A tracciare il consuntivo delle attività svolte nel 2017, oggi è la Capitaneria di Porto di Pesaro. Fra i dati emerge un aumento di controlli ed illeciti penali in materia di tutela del demanio marittimo e dell'ambiente, con un incremento di sequestri del 100% e più violazioni nella circolazione del 250%. Per la pesca poi, nonostante i periodi di fermo del settore, gli illeciti hanno registrato un più 40%, con una crescita anche dei relativi sequestri. Nel loro complesso, le sanzioni amministrative accertate nell'anno hanno registrato un aumento in media del 113%, con multe erogate pari a quasi 72.000 euro. Inoltre, le uscite in mare dei mezzi nautici hanno subito una variazione positiva del 15%, con maggiori interventi di soccorso e di assistenza. Un ulteriore incremento si è verificato inoltre nelle certificazioni rilasciate pari al 38%. Il bilancio sembra essere quindi coerente con gli obiettivi di sicurezza e di tutela ambientale, posti dal comandante della Capitaneria di Porto, Girgenti, all'atto del suo insediamento nel settembre 2016. E' bene dunque rispettare sempre le norme di prudenza e buonsenso, e in caso di emergenza in mare, chiamare il numero blu della Guardia Costiera 1530.